Avanti indietro sempre a falciare un po' d'altro. A quello che ho fatto non capisco a essere ancora qua. Il 17 gennaio del 1991, tutti si lamentano, io sono tranquillo perché come salute non mi sento niente, sto bene, io lavoro, coltivo fiori e orto e basta, la mia passione è quella. Comunque sono contento di quello che faccio e agli anni che ci sto abbastanza bene. Dite mi saeste, finito, mio nome è Nati. Grazie. 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 Grazie.